ciao a tutti ragazze e ragazze bentornati sul mio canale io sono Giorret e oggi parliamo di tale quale show 2020 seconda puntata vediamo chi ha vinto questa seconda puntata è andata in onda la seconda puntata di tale quale show vi ricordo che nella prima puntata vincerla è stata virginio con le imitazioni di Justin Timberlake anche in questa seconda puntata a giudicare le imitazioni sul palco saranno i giurati Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e in più un giudice d'eccezione Lino Guanciale a senza scordarci del giudice speciale Gabriele Cirilli nelle veste di Puppo ma andiamo a scoprire le esibizioni il primo a esibirsi è Virginio che dovrà imitare Diodato con fai rumore il pubblico applaude anche i giudici sono convinti buona esibizione seconda esibizione Sergio Muniz che dovrà imitare Enrico Inglesias anche lui convince sia il pubblico che i giurati terza esibizione Francesca Manzini che dovrà imitare Levante messo magnata Levante ironizza Manzini ma anche lei ha fatto un'ottima esibizione quarta esibizione Barbara Cola che dovrà imitare Tina Tanner inutile dire Standing Ovation quinta esibizione Francesco Paolo Antoni che ha dovuto imitare Alan Sorrenti l'esibizione molto divertente ma non ha convinto i giudici Sesta esibizione Carolina Ray che stupisce il pubblico di tale quale show con l'imitazione di Arisa Settima esibizione per Carmen Russo che dà il meglio di sei sul palco portando la sua versione di Boyce nei panni di Sabrina Salerno Ottava esibizione per pago che ha dovuto imitare Gianni Moranni la gestualità è molto simile diciamo che ce l'ha fatta non ha esibirsi è Giulia Sol nei panni di Whitney Houston inutile dire che è stata una performance strabiliante ultima esibizione per Luca Ward con Liga 2 sinceramente a me non è piaciuto tanto Vediamo la classifica per vedere poi il vincitore di questa seconda puntata Decima posizione per Carmen Russo Nono Luca Ward Ottavo Francesco Paolo Antoni Settimo Sergio Muniz Sesta Francesca Manzini Quinto Virginio Quarto Pago Terzo Carolina Rey Seconda Julia Sol Prima posizione per Barbara Cola E Barbara Cola a vincere la seconda puntata di tale quale show con l'imitazione di Tina Turner E voi siete contenti? Se si scrivete nei commenti e ditemi la vostra Per il momento ho concluso il video Se vi interessa iscrivetevi al mio canale per altre news Un grosso abbraccio da Joe Red Per Andrea Per 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 Pia Per Per